Enrico, Anna ha un aborto spontaneo. Dà tutta la colpa allo spavento per la caduta del re. Sviluppato per indicare che sarebbe stato un maschietto. La delusione del re è enorme. Neanche il nuovo matrimonio e tutto ciò che è costato in termini politici ha risolto. Si chiama Jane Seymour ed appartiene ad una casata che aspira ad accrescere il proprio potere. Ha un'attrattiva che ha gli occhi di ogni altra qualità. Proviene da una famiglia molto prolifica. Anzi... ...del re in un'altrettanto numerosa discendenza. Sembra davvero incredibile ma a questo punto la passione del re per Anna Bolena si spegne così velocemente come si era accesa e Enrico comincia a parlare della moglie come una strega, ma è tagliato con le sue arti magiche.